3 2 1 buongiorno buongiorno a tutti buongiorno stamattina di cosa parliamo di bello ma non ci presentiamo io sono valentina roma di impossible news e riccardo giorgi impossible news già abbiamo detto ma non sanno che cos'è impossible news impossible news è un magazine di arte moda e tecnologia giusto giusto noi ogni settimana andiamo su internet a cercare i migliori contenuti e ogni settimana cerchiamo di pubblicare sul nostro sito internet e sul nostro canale youtube quindi se rimanete connessi troverete tantissimo tantissime nuove informazioni questo tra le varie cose anche il magazine cartaceo e tra i vari servizi noi cerchiamo di aiutare l'indicizzazione